Ciao a tutti e benvenuti sul canale Tina on the Road, ovviamente a chi non mi conosce ancora. Questo è il cinquantesimo video unboxing di Aliexpress, quindi chi è nuovo sappiate che ci sono altri 49 video di questi spacchettamenti. Faccio una piccola premessa, ormai vi avrò rotto le scatole, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti aiutandomi a raggiungere i 1000 iscritti. E per voi che non siete ancora iscritti, vi dico che entro il 20 febbraio avrei bisogno di raggiungere i 1000 iscritti, vi ringrazio se lo fate. Ciao cari, grazie! C'è anche Nadia, ringrazio anche lei. E possiamo andare ad aprire questo pacchetto, ci sono più prodotti qua dentro, è una cosa molto molto carina, spero vi possa piacere. Andiamo ad aprire. Vediamo un po' cosa esce da qua. Vediamo? Oh che carina, guardate! È una bambolina, è bellissima. Aspetta, prova a dire il nome di queste qua, che intanto che apro. Sono le Lalalupsi. Sono bellissime, che carine, sono originali ragazzi. Ed ecco qua, ognuno ha il suo tema, ragazzi, questa qui è tema gelato, guardate che carina, la vediamo bene nel dettaglio. Ha le sue scarpine così, con il fiocchetto e tutto stampate molto molto bene, sotto le gambe sono attaccate così e si muovono. Vedete che qui ha tipo della glassa. Le braccine si muovono, vediamo, sì, si muovono ma poco. La testa si muove, gira, che figata! Queste qua sono costate 1,68 euro in una e vedete anche qua che gli hanno fatto tipo delle palline di gelato sopra. È troppo carina, guardate dietro. Qui c'è un piccolo segnetto nero ma penso che venga via, adesso proviamo a pulirla. E guardate anche la stampa, guardate la stampa degli occhi come è fatta precisa nella sede. Sono fatte bene per quello che costano, direi. Adesso andiamo a vedere cos'altro esce. Oddio, questa qua è la mia! Che carina! Adesso ve l'apro subito perché c'è troppo riflesso. Oh, che carina! Cioè no, vabbè ragazzi, veramente, finalmente dopo un periodo osceno con i video unboxing di Aliexpress, arriva questo video con queste bamboline che sono scioccate da quanto sono belle. Guardate! Questa è la riproduzione dello spaventapasseri. Vedete che ha una gamba diversa dall'altra, fatta tipo paglia, stampata, bellissima. Ora bene nel dettaglio, vedete, queste scarpine tipo converse, qui si vede anche tipo della paglia che esce. Tutto texturizzato, sotto è così, le gambe sono sempre attaccate così. Al suo vestitino, qua addirittura dei guantini, si vede che è tutta di paglia, dietro anche perfetta. E anche i capelli sono fatti tipo paglia, guardate qui, cioè non ci sono parole, sono la perfezione queste bamboline. Anche se adesso magari non vanno più tantissimo di moda, devo dire che sono magnifiche. Sono bellissime, cosa c'entra la moda. Guardate anche la stampa, qui ha tipo anche sotto l'occhio una toppa, tipo, vedete? Meravigliosa, davvero. Guardate il cappello, con il fiore di paglia, oddio, è bellissima. Sempre 1,69 euro, no, 1,68 euro, sì, è uguale, per un cento, poi dopo con gli sconti cambia sempre. Dio, è bellissima, questa è la mia, è troppo carina. Ed ecco qua, andiamo a vedere cos'altro esce. Non mi ricordo com'era. Pigiamino. Oh mio Dio, no, che carina, ve la scarto subito. Oh mio Dio, ragazzi, guardate questa, no, queste qua ve le straconsiglio, cioè nel senso se un minimo vi piacciono queste bamboline, queste cose, vabbè, la dimensione anche la vedete. Assolutamente acquistate da questo venditore, se non ha tolto l'articolo, lo trovate nell'info box, perché ve le faccio vedere comunque nel dettaglio, così potete capire quanto sono fatte bene. Questa è tipo stregatto, di fatti i colori, vedi, sono, mi sembrano, ecco, quelli adatti. Comunque, ragazzi, anche se ne trovate un venditore che magari le ha aumentate anche un po' di prezzo, però sono stupende, veramente, finite perfettamente. Andiamo a vederle bene nel dettaglio, vedete i spiedini qua, come sono stampati bene, c'è un cuoricino qua, tutti, tutti i bottoni, stampato da Dio, vedete anche la stampa dei bottoni che non sborda, cioè sono fatte meglio delle LOL, che io non le comprerò mai, a meno che mi mandano qualche collaborazione, perché sinceramente... No, no, sono originali, infatti è scritto proprio chiaro nel dettaglio che sono originali Lalalupsi, solo che queste dovrebbero essere accompagnate in una scatola, con tutti gli attrezzini, o da giardino, o da cucina, tutte le cose. A me non me ne frega niente, tanto sono originali, anche da sole, così. Ma guardate questa, quant'è carina. Bellissime. Muove le braccia un pochino, non tantissimo, avanti e indietro, così. Le gambine, le gambine sono solo un po' dure, però guardate, vedete che si muovono, cioè mi sembra a tutti gli effetti, vi giuro, 100% di avere in mano qualcosa di originale. Forse mi devo correggere, questa è la più bella, non so se la battono tra lo spaventapasseri e lei, però questa è molto carina, perché ha le gambe che non sono secche secche, no? È tutta fatta bene. Adesso ne aspettiamo oltre due, speriamo che arrivino, perché queste oltretutto sono arrivate in 20-24 giorni, molto presto, è uno degli ultimi ordini che abbiamo fatto. Mi stanno in mano. Ragazzi, se riuscite ad acquistare da questo venditore, ci mette massimo tre settimane, è velocissimo nella spedizione e richiede la firma, quindi è posta registrata, ma gratuita. Ci sono tantissimi modelli, tantissimi... Ui, ce ne sono più di 40 di modelli. Tutti i temi diversi, c'è il pigiamino, vedete Spaventapasseri e questo è il gelato, ce ne sono tantissimi altri, io assolutamente li comprerò, Ve li consiglio tantissimo, un euro e 68, lasciate perdere le LOL, ragazzi, guardate cosa c'è qui. Avete visto come sono stampate? Alcune persino sono andate esaurite, perché c'erano anche vestite da coniglietto, vestite da scoiattolino, da gattino, però sono stati esauriti, perché è ovvio, una cosa bellissima, che costa anche pochissimo, era comprare nel negozio, costa sempre sui 30 euro l'una, con la scatola, ripeto, e tutti gli oggettini che c'erano insieme. Volevo farvi vedere che sono marchiate MGA, vedete, MGA Cina, tutte quante sono marchiate. Vediamo se riesco a mettervi a fuoco, vedete? Praticamente, essendo che tutto è fatto in Cina, molto probabilmente, semplicemente le fanno là, e invece di venderle con l'imballaggio originale, le vendono così, ma rimangono sempre originali. Ecco qua, vedete, MGA? Sono marchiate veramente, e sono veramente, veramente stupende. Ne ho comprate tantissime altre di queste bamboline, perché mi sono innamorata e voglio fare tutta la collezione, quindi restate sintonizzati, perché quando arriveranno, ragazzi, arriveranno, ve le farò vedere. A proposito di questo, colgo l'occasione per farvi una domanda. Questa settimana è arrivato solo questo pacchetto qua. Volevo chiedervi, siccome che il video purtroppo mi tocca terminarlo qua, fatemi sapere se preferite, quando ho un pacchetto solo, al massimo due, se preferite che carico il video così corto, o se preferite che non lo carico del tutto e aggiungo i pacchetti di questa settimana a quelli della prossima per fare un video più lungo. Notate, ragazzi, che questo pacchetto è arrivato solo ed unicamente perché era posto registrato e bisognava firmarlo, perché del resto non è arrivato nulla di nulla, verranno tempi migliori, spero. Mi raccomando, rispondetemi a questa domanda, perché vorrei sapere, insomma, sapete che io al sabato carico sempre il video unboxing e ultimamente purtroppo va così, però se a voi piace lo stesso, anche con un pacchetto solo, io continuo a farlo molto volentieri. Vi mando un bacio enorme. Anche da parte mia, sempre se c'è il pacchetto, ragazzi, verranno tempi migliori, spero. Ciao! Ciao, alla prossima e domani, domenica, va online un altro video. Ciao!